Il primo tiro, Posito prova il tiro dalla distanza, prova un ottimo pipo, il tiro di Elia Petro, il pregante, attenzione adesso nell'azione che aveva liberato Posito, la palla finisce sul pattino di Taboritegui, Danzato che però perde palla, adesso riparte in volta, sempre Petrocchi, poi Taboritegui, prova il tiro! Gavioli, adesso scarico Gavioli per Pienza, prova il tempo, attenzione adesso il taglio di Posito, riceve palla, Cambio dall'altra parte, Gavioli si lamenta di qualche intervento di troppo di Tassato, arriva Taboritegui e poi adesso la prova a mettere in mezzo, però riconquista palla Tassato sulla ripartenza del Mozza, bello lo scampio con Tatana, poi Agostini riparte, metterla in mezzo, la mette in mezzo e c'è Tassato che va a deviare la palla di un'incolpevole pipo a fuoco. Pienza, Gavioli si libera allo spazio, poi serve, serve Paboritegui ed è il pareggio di servizio a Mozza. Allora ci pensa, ragazzi, ma Posito il tiro e questa volta c'è la manona, palla riparsa, dietro forte, poi sulla, sul palo e c'è un altro intervento, colpisce Ramiro Torres dietro, contropiede del Mozza, traversa, Passugheri battuta ancora da Taranni, Posito ancora, la palla, Carabola dentro, si era opposto, Pippo Fong ha rotto, Carabola è in possesso per A, attenzione, Fisca Iguorio, Fisca parte per l'azione, serie di finta e poi cerca l'angolo, mamma mia che angolo che ha trovato il profitto. Paboriteghi, prova a metterla in mezzo, Zucchetti, grande, grande, barata di Mattia Verona. Riparte Agostini che ne palla, riesce a liberare, la palla si ferma, e riesce, Zucchetti che riceve, dribbling e la mette lì, ottimo, e c'è però la palla che finisce dentro, in contempo, partiamo con la palla, una palla che Carabola, Mozza che con Zucchetti si libera, attenzione, la traversa di Elia Petrochi, parte Mozza dalla distanza, bello questo tiro, corretta fino a questo momento, attenzione, va via Mattia Cocco, si libera, poi prende e fa la mano, va in dribbling Torres, una mano, poi il raggobbio di Pienza, se ne va in giusta, prova, Pienza, un gol incredibile, il Mozza riazzurpa il pari, con Francisco Pienza, al tiro in lunetta, si libera bene, o non c'è bisogno, perché Giulietta Moroteghi, la mette, il triangolo perfetto, con Pria Pienza, bisogna cercare di fare il più possibile, attenzione, lì poi si libera e forse in qualche maniera, Tuchetti, e stavolta, c'è il fallo di, fa tu, così, posto, dopo a dire l'azione, quindi, da un lato, prova, e c'è Verona, grazie, grazie. 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 Grazie.